Buonasera a tutti, ringrazio l'amministrazione per il patrocinio, ringrazio la scuola di ballo Balli e Balli, ringrazio la Mascaro Communication, quindi lo spettacolo è iniziato e quindi ci ritroviamo qui per il nono anno consecutivo. Io sono serito più che altro per ricordare un amico, un amico è un componente della nostra associazione, un componente che purtroppo non c'è più, era da qualche anno ammalato ed ora ci guarda al cielo. Vorrei fare un grande applauso e ricordare proprio lui, a Serenio. Un caro amico, una persona disponibilissima, una persona sempre allegra nonostante i suoi problemi, era sempre sorridente, sempre disponibile con noi, con tutti, chiunque si avvicinava a lui era sempre disponibile in tutto e per tutto. Vabbè, adesso continuiamo con la festa e ci tenevo a ricordare questa persona. E il mondo! 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 Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione